Entriamo in diretta, ci ha raggiunto nel nostro studio come avete potuto già vedere il dottor Salvatore Cusenza, specialista in scienza dell'alimentazione Buongiorno Salvatore, ben trovato Buongiorno a tutti Buongiorno Buongiorno Grazie alla tua presenza in studio, oggi vogliamo parlare di alimentazione aprire questa parentesi, visto che effettivamente è un aspetto importante della nostra vita, della nostra quotidianità ecco, forse molte volte la fretta del quotidiano ci fa fare scelte non sempre appropriate invece ecco, dovremo probabilmente prestare più attenzione a quello che mangiamo Beh, esattamente, tantissimi anni fa, un medico di circa 2-3 mila anni fa disse noi siamo quello che mangiamo, effettivamente non aveva tutti i torti perché sta sempre più venendo fuori che in base al tipo di alimentazione che facciamo poi si possono sviluppare delle patologie sta sempre più venendo fuori che un eccessivo carico di carboidrati sotto ogni forma può causare patologie quindi questo ormai è già abbastanza conclamato e bisognerebbe iniziare a dosare e ridurre l'eccesso di carboidrati che creano un'infarmizzazione sistemica di tutto l'organismo traduciamo carboidrati, pasta, pane pasta, pane, riso, pizza, merendine ogni forma di carboidrato e zucchero rientrano nella stessa famiglia Quando si può capire che si sta esagerando con gli zuccheri oltre appunto a, diciamo, la taglia come nel mio caso Sicuramente Cioè come si fa prima, giorno per giorno, a capire che stiamo esagerando Vabbè Cioè, sicuramente se uno ha una predisposizione al diabete può controllarlo dalla glicemia o anche dall'aumento di peso perché quello che causa maggiormente un aumento di peso è l'eccesso di carboidrati e non l'eccesso di grassi che generalmente poi sono contenuti anche nei carboidrati quindi molte volte si fa lo sbaglio di eliminare i grassi siamo sempre attenti sui grassi ed eccedere sul carboidrato, sulla pasta, sulla pizza, sul riso Perché? Ricordandoci della dieta mediterranea dove c'era un carico di carboidrati di circa il 60% però con 10 ore di lavoro manuale al giorno aveva un significato alla dieta mediterranea Ai giorni nostri con un carico di lavoro che è soprattutto sedentario mangiare quel carico di carboidrati così eccessivo non è proprio il massimo Questa è una stagione adatta per iniziare un cambiamento nell'alimentazione? La stagione adatta è quando il paziente si sente pronto non esiste mai una stagione adatta Ci sono persone che nel mio studio iniziano a iniziare un piano alimentare anche il 30 luglio ed è successo Quando mentalmente il paziente si sente pronto fissa un appuntamento Poi ricordiamo anche che l'alimentazione non è solo perdere peso perché ormai siamo arrivati anche a creare dei protocolli alimentari per il paziente oncologico diabetico, nefropatico, con allergie al nichel alle varie altre patologie Per le patologie autoimmuni si parla tanto di psoriasi ma non si parla dell'alimentazione da abbinare alla psoriasi che è una patologia autoimmune dove facendo determinate cose a livello alimentare si può addirittura spegnere quel pulsante che attiva la psoriasi Ci sono tante cose da fare sull'alimentazione e ne stanno uscendo sempre più fuori Per tornare sul versante del quotidiano quindi aveva ragione la mamma quando mi diceva devi mangiare più frutta? Se è una frutta salutare, sì se è la frutta di oggi che è splendente, lucida, piena di cera no diciamo che non esageriamo perché poi alla fine questa frutta così perfetta bisognerebbe vedere dentro cosa ha fare un'analisi chimica sicuramente non eliminarla ma neanche esagerare perché poi tra l'altro la frutta contiene fruttosio che è uno degli zuccheri più tossici per il fegato per il paziente diabetico la frutta è una droga il paziente diabetico è molto attratto dalla frutta quindi equilibrio parola d'ordine tutte le cose usare con equilibrio Molto bene In questi ultimi anni si è fatto spesso parlare si è sentito spesso parlare di dieta chetogenica ci vuoi spiegare che cos'è? Allora la dieta chetogenica nasce nel 1901 o 1902 quindi a più di 100 anni nasce perché questo dottore aveva un figlio con crisi epilettiche e non riuscivano queste crisi ad essere compensate dal farmaco ha iniziato a provare con l'alimentazione e ha notato che riducendo l'introito di carboidrati questo bambino aveva sempre meno crisi epilettiche fino ad arrivare un giorno ad eliminare totalmente l'introito di carboidrati si manteneva intorno ai 15, 20, 30 grammi al giorno che venivano presi dalle verdure, dagli ortaggi quindi da lì nasce la dieta chetogenica che non è altro che portare il funzionamento del corpo da un utilizzo di zurchi all'utilizzo di corpi chetonici quindi il corpo vive utilizzando il betidrossibutirato l'aceto acetato e l'acetone che viene eliminato dal respiro quindi è l'unica sostanza che il corpo riesce a utilizzare come fonte di energia ed è l'unica che arriva al cervello insieme allo zucchero quindi questi pazienti che avevano crisi epilettiche eliminando lo zucchero riducevano o addirittura pazienti non compensati da farmaco riuscivano ad eliminare le crisi epilettiche e anche nel paziente emicranico poi da lì si è osservato che questi pazienti perdevano anche tantissimo tessuto adiposo e quindi da lì l'applicazione 20 anni fa per perdere peso sulla fibromialgia nel paziente diabetico che può farlo nella fibromialgia è l'ultima frontiera nell'apsoriasi, nell'ovai policistico quindi ha tante applicazioni non nasce per perdere peso ma ha altre applicazioni, è una terapia medica tra l'altro quello che mi preme sottolineare non è una dieta iperproteica ma è una normoproteica con più grassi particolari e pochissimi carboidrati 20-30 grammi al giorno sempre un'iperproteica perché eliminando il carboidrato dall'alimentazione e mangiando solo verdure controllate e proteine sempre che un'iperproteica ma in realtà stiamo intorno a 1,4-1,5 grammi di proteine per chilo corporeo di peso ideale quindi non ci sono grandi controindicazioni sui reni, sul fegato e ci sono persone i pazienti ad esempio che non hanno l'enzima per fare entrare lo zucchero nella cellula che hanno carenza di glut 4 vivono a vita con queste diete perché non c'è un'alternativa logicamente aumentando l'introito di acqua per evitare che l'azotemia si alzi ma sono pazienti che vivono a vita così pazienti con crisi epilettiche il paziente con i micrani in cui il farmaco non funziona hai fatto un riferimento all'acqua ecco tante volte leggiamo che hai raccomandato bere molta acqua durante il giorno però per un motivo o per un altro magari non lo facciamo esatto beh più o meno è stato sempre detto che bisognerebbe bere intorno a 2 litri d'acqua ma non ridurli ridurci a berli solo la sera perché poi in quel caso non vi è una distribuzione all'interno del corpo in modo adeguato se facciamo un esame bioimplenziometrico vedremo proprio come l'acqua bevuta in modo casuale e non in modo razionale si accumula più nella parte extracellulare e meno nella parte intracellulare quindi abbiamo questa ritenzione e disidratazione all'interno della cellula e quindi la vera posologia qual è? non esiste se uno pesa 300 kg non può bere 2 litri d'acqua tendenzialmente un litro e mezzo 2 litri d'acqua vanno bene è anche vero che d'inverno è un po' difficile distribuita nel giorno distribuita nell'arco della giornata una cosa che io consiglio ai pazienti è di evitare di bere troppo durante il pranzo perché diluendo i succhi gastici ne rallenta la digestione soprattutto per chi ha una digestione lenta questo ce lo dicevano anche le mamme questo è un consiglio perché invece tendenzialmente quando si è a tavola si tende a bere ci riempiamo d'acqua e poi tendiamo quella sensazione di gonfiore e di rallentamento della digestione invece tornando alle materie prime sane perché lei prima giustamente parlava di frutta che non sempre è quella che ma neanche la verdura ecco per quel che riguarda anche l'integrale le fonti proteiche anche lì ci sono dei campanelli d'allarme dobbiamo stare attenti a qualche inquinamento in realtà dovremmo stare attenti a tutti perché basti considerare che la maggior parte degli alimenti sono avvolti nelle plastiche ormai si parla tanto di microplastiche le microplastiche sono queste microparticelle di plastica che vanno a creare interferenze endocrine quindi patologie a livello di ghiandole endocrine e sta sempre più venendo fuori questa cosa tiroidi che non funzionano malformazione alla nascita e tant'altro queste microplastiche ormai le troviamo un po' ovunque i mari sono pieni i mari quindi è un problema trovare del cibo veramente incontaminato è quasi impossibile tranne alcune serre dove le coltivazioni vengono fatte in idroponica quindi piante di verdure, frutta sospese in area in cui viene nebulizzata l'acqua e il concime quindi non hanno contatto con il torreno e sono controllate in delle serre chiuse quindi quello è veramente un biologico sano ma saranno in tutta l'Italia e in tutti i tagli saranno 3-4 ettari così e costano tantissimo è ancora una frontiera è una frontiera ancora da scoprire ma sono prodotti che costano tantissimo esempio in questi tipi di serre sono riusciti a fare i pomodori senza nickel per il paziente allergico al nickel però capisci bene che costa 4-5-6 volte in più rispetto a o un chilo di pomodoro coltivato nella terra Io chiuderei Maria Pia se sei d'accordo con un ultimo passaggio magari ecco facendo una distinzione sui grassi li abbiamo accennati ma non abbiamo non ci siamo soffermati sappiamo che ci sono grassi animali e grassi vegetali dottore una piccola chiosa su questa Allora quello che si osserva è che i grassi vengono sempre demonizzati a discapito poi dei carboidrati perché sempre che senza i carboidrati non si possa vivere in realtà proprio la dieta ketogenica dimostra che è una dieta con normoproteine e più grassi e il corpo da qui riesce a produrre energia sicuramente i grassi animali sono da moderare ma non da moderare quelli vegetali soprattutto l'olio di oliva che è ricchissimo di antiossidanti e di polifenoli quando io sento che alcune persone usano 10 grammi di olio al giorno perché devono fare la dieta è un paradosso perché alla fine poi non è che togliendo quei 10 grammi risolvi il problema anzi le membrane plasmatiche delle nostre cellule sono fatte di grasso servono anche per le membrane plasmatiche quindi usare oli vegetali buoni quindi l'olio di oliva dato che noi siamo ricchi in questa zona extravergine extravergine sicuramente perché è anche di facile reperibilità nella nostra zona ma in tutti i tagli in realtà in tutto il Mediterraneo direi in tutto il bacino del Mediterraneo e ridurre quegli animali quindi ma non eliminarli del tutto molto bene dottore è stata una chiacchierata piacevolissima ci auguriamo che magari possa nascere una rubrica da questa va bene da questa chiacchiera abbiamo ottenuto il suo il suo consenso per cui la ringraziamo ancora una volta per essere stato qui con noi stamattina e quindi gli diamo un arrivederci piuttosto che vorrei dire va bene una buona giornata a tutti buon lavoro di rieducazione oltre che di cura grazie bisognerebbe fare rieducazione esattamente per prevenire tra 10, 15, 20 anni tantissime patologie e creare anche un risparmio sulla spesa sanitaria di 30-40 miliardi di euro che sono già conti fatti ma che nessuno vuole fare poi in realtà e noi quindi ci ritorneremo grazie con la rubrica cura del dottor Salvatore Cusenza che ringraziamo per essere stato qui con noi oggi nuovamente e ringraziamo grazie